Si appuntano i numeri per la categoria allievi. Il percorso della categoria allievi prevede quattro giri del circuito senza estreme difficoltà che corre intorno a Mocaiana per arrivare a Fontanelle, la variante è il ritorno. 18 chilometri il giro del circuito, quattro giri da completare, 78 chilometri da percorrere, 551 metri il dislivello. Direttore di corsa Enzo Amantini che ci ha preparato tutta la cartella stampa con grande precisione. Andiamo a vedere allora gli allievi, 102 gli iscritti, prova valida per il campionato regionale Umbro, per la Gubbio Ciclismo Mocaiana le attese sono per il numero 1 Tommaso Francescangeli e il numero 2 Federico Mariani. Per Lucì Forigno, Tommaso Marchioni numero 3, Loardo Bolletta con il 4, Giacomo Serangeli con il 5, Riccardo Bacchettini con il 6, Mattia Proietti Cagliardoni con il numero 7, Luca Laudi con l'8, Federico Forieri numero 9, Riccardo Martelli con il numero 10. Guardate come a volte le staffette sono inefficaci nei confronti di chi se ne frega che passa una corsa, che c'è un inizio gara, che bisognerebbe fermarsi, la macchina è entrata tranquillamente alla faccia di quelle che sono le disposizioni di aver visto che arriva la corsa ciclistica. Quando uno se ne frega fino a quando, poi dopo non combina il disastro, la testa non gli dice nulla. Per il Città di Castello, categoria allievi, numero 11 Francesco Cornacchini, 12 per Alessandro Carbet, 13 per Filippo Pochini, 14 per Tommaso Meazzini. E poi le altre squadre, la Recanati Marinelli Cantarini, il pedale Toscano Ponticino, il pedale Chiaravallese, il team Logistica Ambientale, l'effetto ciclismo Noi Sport, l'Alma Juventus Fano, il team Coratti, PS Cycling Team, il pedale Rosso Bru Piceno, il pedale Teate, l'Opi Bike, l'Albergo del Tongo, Olimpia Valnarnese, Team Bike Terenzi, rappresentativa Sicilia e il Team Bike Ballero. E arrivano da tutta Italia per la gara valida per il Memorial Salvatore Tore Castellani. Salvatore Tore Castellani era uno degli allenatori della categoria allievi. Ogni anno la Cupio Ciclismo Mogajana lo vuole ricordare proprio con una gara dei suoi ragazzi, di quelli che erano una categoria allievi e anche oggi è andata così. La bandiera è stata abbassata dalla figlia di Salvatore Tore Castellani. Adesso andiamo con questi 102 iscritti, con i 72 chilometri da percorrere e con un dislivello di 551 metri. Quindi una gara di velocità, una gara che va via veloce con il campionato regionale che è lì, che ricorda che c'è questo importante appuntamento. Ricordo ancora una volta, le immagini sono girate da Danilo Bellini, che ci ha fatto questo grandissimo piacere di seguire la corsa, e da lungo per la logistica ambientale che decide di andare a vedere se il gruppo reagisce. Ovviamente il gruppo non reagisce perché c'è il campionato regionale. E così Luca Attolini, numero 39, logistica ambientale, va a prendersi un po' di vantaggio. Ma soprattutto lo vanno ad inseguire negli ultimi due chilometri Leonardo Consolidani del team Coratti con il numero 64 e Mattia Proietti-Gagliardoni della Unione Ciclistica Foligno con il numero 7. Il vantaggio di Luca Attolini del team logistica ambientale oscilla intorno ai 30 secondi. riescono a staccarsi dal resto del gruppo che dietro non risponde, come abbiamo detto, Consolidani e Proietti-Gagliardoni che vanno all'inseguimento di Luca Attolini. Per Luca Attolini del team logistica ambientale ci sarà la vittoria. Per Leonardo Consolidani e Proietti-Gagliardoni la seconda piazza, non c'è storia. Gagliardoni, dopo aver visto che Consolidani ha tirato per gran parte del percorso, gli lascia la piazza d'onore ma a lui spetta il titolo di campione regionale. Quarta posizione per Giacomo Sgherri dell'Alma Juventus Fano, quinto è Giacomo Serangeli dell'Unione Ciclistica Foligno, sesto è Matteo Tullio del pedale Teate, settimo Valerio Doddis della rappresentativa Sicilia, Lorenzo Cipriani della PS Cycling Team e poi la nona posizione di Pietro Frasconi del pedale Toscano Ponticino e la decima posizione per Giuseppe Messina della rappresentativa Sicilia. 72 chilometri percorsi, 38 e 46 la media, il tempo di 1,52 e 15 per la categoria degli allievi. Sono andati veloci, li vedete dalle immagini della nostra telecamera che inquadra, siamo nell'ultimo passaggio per quanto riguarda la categoria degli allievi. però la volontà di mettersi in evidenza c'è tutta. Siamo oramai nel momento del traguardo per vedere la chiusura di questa lunga giornata della Cupio Ciclismo Mogagliana che organizza sia la gara degli esordienti che la gara degli allievi per il titolo di campione regionale. Ci sarà poi l'appuntamento d'agosto a Mogagliana con la categoria Juniors, una classica per Mogagliana, una classica d'estate per Mogagliana, l'ultima domenica, se non vado errato, del mese di agosto con un bel numero di concorrenti e con un paio di salite che spaventano e che fanno la differenza. Ma noi siamo oramai al traguardo con quello che è il pensiero di contare solamente la vittoria che come abbiamo detto va sulle spalle dell'alfiere della logistica ambientale Luca Attolini che arriva con un vantaggio di 31 secondi. La seconda posizione per Leonardo Consolidani del team Coratti, insieme con lui arriva Mattia Proietti Cagliardoni dell'Unione Ciclistica Forigno che vince così la maglia di campione regionale. E poi dietro il gruppo regolato da Giacomo Sgherri dell'arma Juventus Fano. Le immagini per la doppia vittoria, per la doppia inquadratura, per ripetere quello che è l'appuntamento e quello che è la vittoria. Bravo Ottolini che va a vincere, bravo davvero. E beh, noi di fronte a un campionato regionale si dice sempre che ha vinto il migliore. È vero che nella categoria degli allievi anche qui la Gubbio Ciclismo Mogagliana puntava alla vittoria. Tommaso Francescangeli e Federico Mariani. E però esce fuori il numero 7, quello di Mattia Proietti Cagliardoni che in questa parte della stagione ha fatto il bello e il cattivo tempo. È stato davvero il migliore allievo del gruppo degli Umbri. E la vittoria, la maglia sulle sue spalle e il riconoscimento di questa sua bravura. Ancora l'arrivo della categoria degli allievi con il successo del team logistica ambientale. E queste sono le immagini alla fine della gara con l'inquadratura per Mattia Proietti Cagliardoni che vince e non è la prima gara vince la maglia, non è la prima gara che vince perché in questo periodo, come vi dicevo, si è dimostrato davvero di essere il ciclista più forte. Complimenti li fanno tutti a Mattia Cagliardoni Proietti. C'è la misurazione dei rapporti. Come sempre, alla fine della gara, i primi dieci fanno alla misurazione dei rapporti per il controllo. Complimenti a Mattia Tolini che vince la gara. Vedi come il direttore sportivo e l'accompagnatore si preoccupa di chiudere la maglia perché chiudendo la maglia si leggono tutti gli sponsor e si fa promozione a chi ha dato una mano allo sport. Sono quei piccoli accorgimenti che magari uno non nota ma chi ci tiene a questo mestiere, chi ci tiene alla squadra, fa sicuramente grossa differenza. Intanto il presidente della Federciclismo regionale dell'Umbria, Massimo Alunni, consegna la maglia a Mattia Proietti Cagliardoni. Forse è un pelino più grande, forse poi dopo troveremo quella un pochino più piccola perché la maglia deve essere stretta, deve essere tirata e deve fare aerodinamica. Questa è tutta la squadra dell'Unione Ciclistica Forigno con Moreno Petrini che le ha riportati due di campionati regionali oggi da Mogagliano. E sono davvero due maglie pesanti e importanti. Sta lavorando bene l'Unione Ciclistica Forigno, devo dire che sta lavorando molto bene. La consegna del trofeo BS Medica è il memorial dedicato a Salvatore Castellani per la categoria Juniors. Una grande giornata di sport a Mogagliana che finisce così, con i fiori, con la coppa e con la festa.